Benvenuti alla conferenza stampa, la vigilia della sfida con l'Union Clodiense, iniziamo dalle domande con Ferralpisalo TV. Buongiorno mister, è adesso che non bisogna abbassare la guardia, una settimana intensa ma che può confermare la nostra crescita. Sì, ci tengo prima ad unirmi al Cordoglio, ci uniamo tutta la famiglia a Ferralpisalo ovviamente al Cordoglio per la prematura scomparsa della giovane sciatrice Matilde Lorenzi, è una notizia non bella che ha sconvolto il mondo dello sci, quindi ci uniamo al dolore della famiglia. Sì, è chiaro che ci si aspetta di andare avanti, è ovvio che il percorso che dobbiamo fare è sempre quello che chiedo sempre della prestazione, della continuità, ogni partita ci regala nuove sensazioni, nuove idee, il dispiacere è quello di non preparare la partita perché abbiamo fatto qualcosina oggi, questa mattina, abbiamo il viaggio, si riesce veramente a fare poco, abbiamo cercato di guardare questa squadra che al di là della classifica ha dei valori importanti e li ha fatti vedere in alcune partite, dovremmo essere bravi, strutturati, maturi a fare una gara giusta, quello che dico sempre, ripeto, noi dobbiamo fare le gare giuste, con la giusta intensità e maturità, è quella che stiamo dimostrando, ancora di più in una partita dove per i più sembrerebbe una partita da vincere facile, che invece sarà dura, su un campo non facile come quello di Legnago, dove ci giocano due squadre con pochissimo recupero, perché la verità noi capitiamo sempre con un recupero in meno rispetto agli avversari, ma questo non deve essere nessun tipo di scusante, però è vero perché nella preparazione della gara purtroppo non ho potuto avere la squadra al completo, però credo che siamo maggiorenni abbastanza per essere pronti per questa gara, ho i ragazzi che sono pronti anche a dei subentri se c'è bisogno, siamo molto concentrati e con grande umiltà e grande rispetto. Se non ho sbagliato i calcoli, è la quinta volta che la Feralpi di Salò gioca con un giorno di riposo in meno rispetto all'avversaria, oggi con la Clodiense era successo col Padova, col Caldiero, col Vicenza, con la Giana e succederà con l'Atalanta e con il Trento. Non dà un po' di fastidio questo fatto? Sì, per essere onesto, qualcosina sì, per quello che può contare in questa nostra categoria, dove non so se ci sono delle compensazioni più avanti o no, ecco, alla lunga un pochettino dà, perché è un conto se succede una volta, quando succede sempre, almeno perché poi succederà anche con l'Atalanta che giocherà stasera, poi giocherà domenica, capiterà anche contro il Trento, che giocheremo di venerdì e loro avranno giocato di sabato. Una volta correnate è successo, l'unica volta in cui voi avete goduto è stato correnate, la seconda giornata. Il fatto è che alla lunga qualcosa paghi anche, ma solamente magari nel recupero di un infortunato, di un giocatore che è mezzo e mezzo, sai, un giorno in più, conta ai nostri livelli, conta un giorno in più, ma detto questo abbiamo delle rose anche ampie, almeno per quanto mi riguarda, ampie, dove posso tranquillamente metterci dentro giocatori senza grandi problemi. Questa settimana hai provocato il siduramento dell'allenatore dell'Ecco, Valdini, adesso c'è quello della Claudiense che tiene le orecchie aperte, cosa prova un tecnico a causare il licenziamento di un collega? Scusami, mi stai dando troppe responsabilità, perché credo che provocare è assolutamente no, anzi c'è sempre dispiacere quando un collega, come è successo a me, perde la possibilità di svolgere il suo lavoro al meglio, ed è difficile anche entrare nelle dinamiche di qualsiasi tipo di società, nella quale sicuramente io non entro, non si può fare leva su questi aspetti qua, anzi, credo che sia fatto per di più pericoloso per noi il fatto che possa esserci in una situazione di squadra che magari sta prendendo qualche partita e ci metteranno sicuramente, è un po' come la partita contro un caldiero che arrivano da qualche sconfitta e ti ritrovi sicuramente la squadra avversaria, non dico l'ultima spiaggia perché siamo ancora lontani dalla fine del campionato, ma in quelle partite dove veramente devono cambiare il registro e quindi ci aspettiamo una gara molto concentrata da parte degli avversari e pronti ad eventuali accogliere qualsiasi nostra disattenzione. Noi mai più che mai dovremmo essere molto attenti e concentrati e non concedere il minimo indispensabile. Il rischio in queste gare contro le pericolanti è di sottovalutare l'avversaria di solito? Diciamo che se tu lo sai prima sei già a metà dell'opera, noi lo sappiamo perfettamente questo, poi la gara ci dirà come andrà, è difficile a volte mettersi nei panni del calciatore, noi fuori cerchiamo sempre comunque di dare grande sostegno e grande intensità alla loro mente di riuscire a stare sul pezzo anche se si gioca contro squadre che non si chiamano, che hanno un nome altisonante. Noi abbiamo grande, grandissimo rispetto della Claudiense come credo che loro abbiano verso di noi. Sarà una partita con molto combattuta dove non c'è un vincitore iscritto, anzi ognuno lotterà per il suo obiettivo. Ho visto che le prime quattro sconfitte della Claudiense, tutte col minimo scarto, le ultime due invece la squadra è un po' sbraccata, vedendo gli highlight della gara con la Virtus Verona si è avuto l'impressione di una difesa squinternata che andava a farfalle. È per quello che penso che non sarà assolutamente così nelle prossime, perché ci metteranno sicuramente una pezza, avranno molta più concentrazione contro la Virtus Verona che l'abbiamo vista anche dal vivo, appunto perché giochiamo sempre il giorno dopo, abbiamo notato che hanno cambiato qualcosina per quella partita e mi aspetto molta più concentrazione anche perché non è quella squadra, credo che il riferimento non sia l'ultima partita della Claudiense, non è quello, lo specchio non è quello, è stata una giornata veramente storta perché tutte le altre partite la giocate e persa appunto col minimo scarto, comunque sempre combattendo, quindi non mi aspetto certamente quella gara lì, mi aspetto invece una grande gara di attenzione ma principalmente è noi che dobbiamo essere sul pezzo, concentrati, umili come lo siamo stati nelle ultime partite perché la gara è molto lunga e saper valutare i vari momenti della gara che ci saranno momenti dove anche dovremo soffrire anche perché hanno grande fisicità, hanno grande altezza e noi non dovremmo essere da meno. La Feralpi va a caccia della prima vittoria esterna? Sì, noi andiamo tutte le domeniche, c'è la possibilità di tre punti, di un punto e di zero punti, il massimo sono i tre punti, noi andremo su tutti i campi per portare come siamo andati a Padova, a Vicenza, andremo anche sul campo della Claudiense che non è il suo ovviamente, oltretutto. Siamo nelle condizioni mentali e fisiche per farlo, per provarci e quindi quello deve essere il nostro obiettivo e poi prenderemo quello che la gara ci dirà. Per quanto riguarda la formazione, vabbè credo che rientreranno i due che erano squalificati e poi ci saranno altre novità? Devo essere onesto, ho qualche dubbio più del solito, non solamente perché è un turno infrasettimanale quindi c'è bisogno anche magari di far respirare qualche giocatore, ma perché i ragazzi mi stanno mettendo tutti nella difficoltà e nella problematica di sceglierli. Se prima magari era più facile fare la formazione, in questo momento molto banalmente, lo sto dicendo, è un po' più complicato perché mi danno segnali forti, quindi la forza della squadra sarà anche quella nel momento in cui i giocatori non stanno giocando, capire che prima verrà la squadra sempre, nelle scelte, e poi viene anche un po' il singolo, ma non credo che questa squadra abbia di queste problematiche. Non avendo avuto tempo per preparare la gara, cosa avete fatto in questi due allenamenti scarsi? Allora, ho lavorato prettamente con quelli che non hanno giocato la gara contro il Lecco, che è stata molto dispendiosa, e gli altri hanno praticamente fatto lavori di recupero e soprattutto smaltimento degli acciacchi, solamente oggi ho provato, li ho messi in campo giusto una mezz'oretta, ma sempre in fase di recupero, ho lavorato prettamente. Ecco, queste servono a volte anche, poter lavorare su 9-10 giocatori e poter lavorare forte su di loro, ho lavorato soprattutto con quelli, e stop, e basta. Gli altri hanno fatto ancora una giornata di recupero, domani purtroppo abbiamo anche il viaggio da fare, e quindi... E video, video, chiaramente, lavoro a video, è stato quello principale perché abbiamo potuto osservare la squadra avversaria. Secondo te c'è il rischio veramente di un rilassamento dopo aver affrontato appunto il Padova e l'Ecco, incontrare magari a metà settimana una squadra che non sta bene? Il rischio di rilassamento nel calciatore c'è sempre, sempre, e parlo d'ex calciatore che ero fuori il primo che si rilassava, forse per quello poi da allenatore sono un rompimento su questo aspetto qua. Ci tengo a tenere la barra dritta, soprattutto in queste situazioni, soprattutto la giornata della partita del mercoledì. Faremo in modo che questo non debba succedere. Poi, ripeto, in campo vanno sempre ragazzi, noi siamo un po' come i genitori, cercano di educare i figli al massimo, quando entrano in società speri che facciano le cose per bene, siamo uguali. Anche noi tecnici speriamo che i nostri ragazzi vanno poi in campo con la giusta mentalità. A livello di morale invece, questi ultimi risultati positivi ti hanno aiutato a lavorare meglio con la squadra oppure già si lavorava bene anche prima? Si lavorava bene anche prima, ma è ovvio, è banalissimo dirti che aiuta a vincere, si lavora meglio, c'è un migliore approccio agli allenamenti, c'è qualche sorriso in più, c'è anche qualche scazzo in più perché qualche giocatore comincia anche a giocare di meno, quindi è normale che notti di più questa differenza tra la felicità generale e anche qualche ragazzo che ha giustamente un pochettino di… però mai andando oltre la linea e anzi mettendoci dentro un grande impegno nell'allenamento ed è quello che si richiede a un ragazzo, soprattutto quando magari sono ragazzi anche giovani, che questo è un passaggio che devono fare. Grazie, buon lavoro. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.